Una bellissima notizia, vi ricordate di Elena, quella infermiera dell'ospedale di Cremona che divenne con una foto scattata mentre era stramazzata, stravolta, addormentata sul suo computer dopo una giornata di intenso lavoro, era diventato il simbolo di tutti quelli che stavano lottando per combattere questa battaglia difficilissima. Elena che dopo alcuni giorni purtroppo risultò essere anche lei infettata dal virus, dal coronavirus, bene ecco Elena è guarita, è uscita da questa malattia, è ritornata ad essere completamente sana e ci ha voluto mandare una testimonianza che è bello ascoltare tutti insieme. Stasera dopo 23 giorni finalmente ritorno in trincea, finalmente posso urlare sono guarita. Niente, questa notorietà partita dalla fotografia che mi ritrae addormentata sulla tastiera la voglio dedicare con tutto il cuore a tutti i miei colleghi, infermieri, insostituibili e guerrieri. Mi hanno definita eroe, ma i veri eroi qui sono ben altro. I veri eroi sono coloro, tutti i pazienti che ce l'hanno fatta e ce la faranno. A loro auguro veramente di poter raccontare a posteriori la loro esperienza. Oggi ritorno alla vita di tutti i giorni più forte e guerriera di prima e con il motto andrà tutto bene. Ecco, avete ascoltato la sua voce, io non posso che salutarla, farle ogni augurio e ringraziarla per tutto quello che fa e che continuerà a fare. Nello stesso tempo credo si debbano ringraziare tutti i suoi colleghi, tutti gli infermieri di questo meraviglioso paese, di questa meravigliosa regione che stanno lottando come dei leoni per combattere insieme a tutti noi questa battaglia importantissima. E poi Giulio un'altra bella notizia perché anche per le insistenze, per le tante insistenze che abbiamo rivolto all'Istituto Superiore della Sanità, oggi è arrivato il riconoscimento, la certificazione delle nostre mascherine, quelle mascherine che avevamo iniziato a raccogliere ma che non potevamo utilizzare perché mancavano di certificazione, da oggi potremmo iniziare a distribuirle. Dai che andiamo sulla strada giusta.